Salve a tutti amici di Marco's Box e benvenuti in questo primo video di Crash Royale. In questo video ci sarà la presenza dell'esperto di famiglia di Crash Royale, Antonio, che sono i nipote di Marco. Vediamo, a te la parola, facciamo la partita. Scegli il deck. Allora, ragazzi, useremo il mio deck. Quale dei tanti deck, perché dice, c'è una serie di deck. Non mi modificare il primo, fammi per carità di Dio, fammi il deck. Allora, lui non mi ha ancora raggiunto, quindi useremo questo deck che somiglia tanto al mio. Il deck affenato lo chiamo io. È una sua battuta quella. E poi in Cina hanno molto riso, lui non ride mai. Allora, questa è la prima battaglia e il primo video. Siamo in Arena 6. Attenzione, questi sono forti, sì, qua. Ci serve qualcuno? Qua se ci stava la Valkyria, diceva da due secondi, io facevo fuori. Odio Valkyria. Tanto è bella Valkyria. Ah, quindi adesso stai cercando di fare una... Allora, ragazzi, sfolliciate e iscrivetevi. Specifica la tattica che stai facendo in questo minuto? Allora, sto usando l'arco X per distrarre i personaggi. Però ci hanno ucciso lo stesso perché, per disgraziato, c'è il principe. Ma però hanno iniziato a attaccare. Ecco. Allora, ragazzi, questo è nel mio telefono. Il mio telefono c'è a vivo il principe, quello sul cavallo. Non sembra fossilizzare. Anche le mie carte sono forti, quindi... Per niente. Però se ci sta la Valkyria, vabbè. Ha fatto la straccia. Se tu non l'hai voluta prendere la Valkyria... L'odio. Eh, l'odio. È un mare. Vedi che qua ci va con mini pecca e ci va a scassare tutto. Ecco, ci ha scassato la torre. Ragazzi, intanto la strega sta a distruggere quella torre che però sta distrutta a sua volta da un'altra strega. Ci distruggerà fino alla fine? Allora, questa partita di sicuro andrà male. Anche se è la prima andrà male. Possiamo fare anche un amichevole. Eh. Sì, facciamo apparire tutte e due. Vediamo un po', vediamo un po'. Allora, ragazzi, siamo nello stesso clan. Ragazzi. Siamo nello stesso clan delle pecore, mi sembra che si chiama. Che, molto probabilmente, ce ne andremo da questo clan. Facciamo un clan tutto nostro. Ma ci servono mille euro. De mille euro. Io ne accendo qualche cosa. Tu non hai molti soldi, anche tu non. E dobbiamo conservare un po' di soldi. Io sono solo sull'account del tablet. Posso conservare i soldi e già ne ho abbastanza. Allora, tu c'hai il doppio account, c'hai? Me lo so, ho installato oggi anche su tablet. E non utilizzi gli stessi dati di gioco, no? No, perché l'ho già fatto tante volte, cancellato, ristallato e non funziona più l'account. Ecco. Non funzionerà più. Siamo defunti, siamo defunti. Allora, ragazzi, non è ancora tutto perso. Perché abbiamo messo un arco X in attacco, che ora verrà distrutto. Ecco, perché siamo andati. Ed è tutto perso, adesso. Allora, adesso è tutto perso. Niente, panico, occhi panico. Almeno una, almeno una torretta. Manco uno, ci si va a distruggere. Ma è che io ho una cavo di panno di infuocata? Non lo so. Non lo so, ma non voglio conservare. È finita male. Già la prima partita è finita male. Adesso asciò a giocare con il deck di Marco. No, anzi, mettiamo l'amichevole. Vai, vai. Anzi, faccio la prima amichevole. Dai, vai. Questo è un allenamento. Così vediamo se il suo deck è più forte del mio. Andiamo, anche se non ci credo. Io mi vado a mettere innanzitutto il deck mio. Anch'io, non lo so per là. Notate il mio super deck. Allora, io cambierò il deck perché contro lui non mi trovo questo deck. Devo fare un cambio. Allora, lancio io l'amichevole? O lanci tu? Lancia tu, lancia tu. Ok. Allora, l'amichevole la faremo nel campo di prova. Eccola qua. Allora, iniziamo. Ragazzi, adesso state vedendo il mio deck che va addosso al suo deck. State vedendo con la telecamera del suo telefono con quella del mio. E ragazzi, come vedete lo sto già stracciando con quella valkyria che l'ho appena distrutto. E l'ho distrutto pure i goblin. Sì, ma tu c'eri uber sgravo. Dove puoi prendere tutte queste carte? Confessa. Il principe l'ho comprato, il principe quello sul cavallo. Allora, mi ha mandato i sgherri insieme agli aceri. E qua mi uccide. Mie fidi sgherri. Intanto io mando la mia fida strega. Che è una delle mie preferite. Mi sta ammazzando come un mosca. Ragazzi, sappiate che lui ha un sito internet su Google. Si chiama Marcos Box. E anche su YouTube abbiamo fatto un video di Peggle. E lui è uno YouTuber prima di me. Questo è il secondo video che facciamo. Però primo di Clash Royale. Io ti faccio vedere. Ragazzi, per favore, ti fate per me. Perché sto nei guai qua. Oh, oh, oh. Non scherziamo qua. Non scherziamo qua. Non scherziamo qua. Prima torre. E inizia la mia vittoria. E qua inizia a perdere. Muore, disgraziato. Vai, drago. Vai, strega. Quando si carica. Questa è un mordomiglio. Anzi, lo facciamo così. Ti devi andare a vestire, fa poco. Abbiamo anche il karate, sapete? Lui fa anche un campione di karate. Ho vinto la medaglia, oppure essendo di cintura bianca e gialla. Dobbiamo finire subito questa partita, così. Ti distruggo. Ti distruggo io. Riusciremo con la tattica del docoglio-coglio. No! Mi ha fregato, dai. Mi ha fregato. Questa, mi so che la vincerò io. Mi sembra di sì. Mi sembra di sì. Col gigante, drago e barbai contro mi pecca. Questa l'ho vinta io. Buono detto. Beh, spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo prossimamente. Mi raccomando, mettete mi piace, condividete e tutto. I prossimi video forse non saranno accompagnati da me. Saranno anche in solitario. Ah, forse. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ciao, ciao.